Caroline Schaffner, ricercatrice e assistant professor del Gran Sasso Science Institute, associata all'INFN, continuerà le sue ricerche ai laboratori nazionali del Gran Sasso per la rivelazione diretta della materia oscura, beneficiando di un contributo di oltre 3 milioni di euro. La scienziata ha ottenuto il prestigioso finanziamento dell'Istituto tedesco, grazie al quale per 5 anni svilupperà il suo progetto di ricerca e potrà dirigere un suo gruppo di lavoro. La Schaffner proseguirà così un percorso iniziato nel 2016 con un grant finanziato dall'INFN che le ha permesso di dar vita al progetto Cosinus, un esperimento da lei guidato e stallato ai laboratori del Gran Sasso. Sono felice e grata, ha detto Caroline Schaffner, per aver ricevuto questo importante grant e la possibilità di lavorare con il mio gruppo SIC Cosinus. L'INFN ha dato inizio al nostro progetto con un finanziamento per il lavoro di ricerca e sviluppo e ora possiamo iniziare a realizzare l'esperimento Cosinus, un sogno che diventa realtà. Cosinus sta rendendo possibile lo sviluppo di un rivelatore criogenico che opererà a temperature dell'ordine dei 1000 Kelvin e che mira la rivelazione diretta della materia oscura utilizzando lo ioduro di sodio come materiale di interazione. Dalle osservazioni astrofisiche si sa che la materia oscura è molto abbondante nel nostro universo, ben 5 volte più abbondante della materia ordinaria, ma ad oggi, nonostante gli importanti passi in avanti compiuti dalle ricerche, non siamo ancora riusciti a osservarla in modo diretto. Nell'ultima settimana, oltre 7 milioni di euro di finanziamenti esteri ERC e MPRG sono stati vinti dai ricercatori del Laboratorio del Gran Sasso. Elisabetta Baracchini, Massimiliano Fiorini e ora Caroline Schaffner. Il Gran Sasso Science Institute è fiero di avere ricercatrici come Elisabetta e Caroline. Due giovani con straordinarie doti di leadership scientifica che dimostrano che è possibile fare ricerca di altissimo livello nel nostro paese sono le parole del rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia. È una soddisfazione per i laboratori del Gran Sasso, ha detto Fernando Ferroni, presidente dell'INFN, perché 5 milioni di euro vanno a ricerca innovativa a svolgere qui, confermando dunque la nostra eccellenza.